Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Salomonico pareggio tra Porto d'Ascoli e Montegiorgio, in una gara con rare emozioni, per lo più nella ripresa di marca Orange ed al termine di 90 minuti giocati a ritmi non eccessivamente elevati da parte delle due formazioni. Alla fine la divisione della posta in palio ci sta tutta. Ciampelli deve fare a meno dello squificato testa tra i pali, al suo posto c'è il giovane Firinori, mentre Passalacqua vince il ballottaggio con Rovinelli e fa coppia consensi al centro della difesa. Napolano arretra sulla linea dei centrocampisti fungendo da playmaker al posto di D'Alessandro con il tridente offensivo composto da Buonavoglia, Spagna e Battista. 4-3-3 anche per Domenico Ezzotti, con per Pepai antichi cardoni come terminali offensivi. In fase di possesso palle i due esterni di scala in mediana andando così a comporre un granitico 4-5-1. La prima conclusione del match è di marca orange al terzo con rossi che da fuori area non inquadra lo specchio della porta. Ci prova anche Pietro Paolo ma la sua botta di sinistro viene contrata in area con il corpo da Diop. La risposta del Montegiorgio è affidata al dodicesimo a Cardoni che impegna a terra Finori. Al ventottesimo il portodasco di Siori il vantaggio, tiro cross dalla sinistra di Battista che taglia tutta l'area di porta con Spagna e Rossi che per un non nulla mancano il tocco risolutore sotto porta. Il Montegiorgio preferisce giocare di rimessa cercando di sfruttare le qualità tecniche Cardoni che al trentunesimo prova la conclusione al giro ma senza esito. Portodasco di continuo il suo fraseggio ma senza pungere più del dovuto con il rosso-blu di Ezzotti che si difendono con ordine. Al quarantatresimo una serie di rimpalli in area permette ad Antichi di concludere da buona posizione ma la mira è errata. Si va così al riposo sullo 0-0. All'inizio ripresa il Montegiorgio protesta per un fallo di mano in area di Pasqualini sul colpo di testa di Diop ma l'arbitro lascia correre. Izzotti cambia due terzi del reparto avanzato sostituendo prima Antichi con Leonetti e poi per Pepai con D'Agostino. Al sedicesimo Spagna viene messo Giuda De Angelis che si becca anche il giallo al limite dell'area con gli Orange che invece reclamano il penalty. Sulla conseguente punizione Napolano non inquadra lo specchio della porta. Ci prova poi Diop con uno shoot da fuori area ma senza esito. Occasionissima Orange al ventesimo Battista per Pasqualini che entra in area e mette al centro dove il neo entrato Verdesi arriva per primo sul pallone ma il suo tocco finale viene deviato in angolo da Morganti con un recupero in extremis. E ancora Verdesi al ventiquattresimo a sciupare una chiara occasione da rete. Battista dalla sinistra mette in mezzo il pallone sull'uscita di Forconesi pressato da Spagna e il numero 7 Orange si ritrova la palla a tre piedi ma porta vuota, calcia, alto sulla traversa. Il Portodascoli insiste ma non sfonda con il Monteggio che controlla bene le iniziative Orange e non accade più nulla neppure né cinque minuti di recupero assegnati dall'arbitro.